E ti avanti, ecco che ti vieni un pochino, ok, vai Viva gli sposi! A voi, grazie! Ciao! 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 Ciao Roberto! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao Tidea! Le tropiche! Le tropiche! Buone! Agosti Tensi! Tensi! Ciao Bertini! A che senno! No, 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 no! E questo è il tavolo davvero yeah! L'ho finito! No, si inquadra lui! Buone! 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 Buone!